Ale De Maria, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua. Grazie Camille e grazie per questo invito. Ale, guarda, stavo un po' studiando la tua storia per arrivare preparato a questa conversazione e non fare la figura del fesso e quello che è saltato all'occhio subito è che sembra, guardate da fuori, che la tua storia percorre veramente i passi della famosa storia dell'eroe, proprio come se fosse un film che include tutti i passaggi da una chiamata all'avventura che poi è stata la tua malattia, quindi il non stare bene, al cercare risposte, al trovare un mentore che è stato Ido Portal e poi al ritorno in Italia per iniziare quello che è stato proprio un movimento sul movimento che sembra una cacofonia ma poi magari entriremo più sul cosa significa davvero. Quindi volevo partire proprio da lì, dalla tua storia, se ci puoi riportare indietro un po' a rivedere gli highlights di quelli che sono stati il tuo percorso e di cosa ti ha portato a essere dove sei oggi. Assolutamente, allora cercherò di essere coinciso perché la storia è parecchio lunga, però è molto interessante... Prendi tutto il tempo che vuoi. Assolutamente, è molto interessante la cosa che hai detto riguardo al viaggio dell'eroe perché per tutti coloro che hanno studiato una volta nella loro vita un po' di marketing, quando una persona deve comunicare la propria storia appunto ci sono degli step che fanno funzionare questa storia meglio che altri e appunto l'insieme di questi step è il viaggio dell'eroe dove si fa vedere da dove inizia il tutto, il perché, com'era la tua vita prima, quali sono stati gli ostacoli eccetera eccetera. E avendo a che fare con tante persone che lavorano anche nel mondo del marketing in settori diversi, noto sempre che c'è un certo tipo di sforzo nel tirar fuori la tua storia e qualcosa qua e là viene, non dico inventato, ma un po' teatralizzato. Ok, si viene fatto un po' di cinema. Nel momento in cui io vado a scrivere la mia storia, è una cosa che mi succede spesso, comunque comunicarla, di fatto, come dici tu, è un viaggio dell'eroe naturale, quindi ci sono state delle sfide grosse, mi rendo conto degli ostacoli che forse oggi ho 30 anni, magari la maggior parte dei 30 anni non ha magari avuto a che fare con delle sfide così grandi, io ho dovuto sbattere la testa spesso prima di capire e diventare poi la persona che sono oggi. Insomma, per farla breve, io nasco vicino a Milano e questo forse mi ha salvato, non a Milano ma a 5 minuti da Milano, quindi in un piccolo paese di, possiamo chiamarlo di provincia, da 2000 abitanti e questo mi ha permesso poi di fare un'infanzia, perché nasce negli anni 90, ancora legata alla natura, potevo andare a scuola da sola a piedi, non troppo tecnologica. Esatto, esatto. Anzi, faccio parte di quella generazione che ha visto il mondo cambiare ed era proprio in mezzo a questo cambiamento della rivoluzione tecnologica e quindi questo mi ha permesso di tenere i piedi ancora radicati nel mondo più concreto mentre si vedeva evolvere il mondo e il distacco un po' dalla nostra natura, se vogliamo. Diciamo che i problemi iniziano un po' da subito, perché un giorno chiamano mia madre mentre sono all'asilo ancora, ho il nido addirittura, al nido, al nido sì, e dicono guarda Alessandro c'è un ginocchio gonfio, non abbiamo visto che ha fatto cose particolari, però insomma si è gonfiato questo ginocchio, così mia madre mi è venuta a prendere prima al nido e insomma questo ginocchio non si sgonfiava come ci si aspettava, magari sai da piccolo cadi, prendi botti, insomma può succedere. Al che mia madre si è preoccupata, ovviamente mi ha provato a fare delle visite di approfondimento senza ottenere dei riscontri reali, cioè nessun medico sapeva dire cosa fosse accaduto, fino a quando, ti direi nell'ordine di qualche settimana dopo, quando il ginocchio ancora non si era mai sgonfiato, un medico solo toccando questo ginocchio ha detto guarda questa è artrite aromatoide, quindi una malattia autoimmune, questa è stata la mia prima esperienza nelle malattie moderne, quindi di fatto c'è stato il mio primo ricovero, mi hanno siringato per bene, eccetera, eccetera, e di fatto non ho avuto poi grandi problemi perché la malattia è andata in remissione nel tempo, però nei primi momenti i medici mi hanno detto guarda sicuramente ti riprenderai ma magari non potrai fare una vita proprio al cento per cento in termini sportivi, così mi hanno consigliato come consigliano tanti ragazzi con problemi fisici di andare a nuotare, così io ho ascoltato i medici e la diciamo la mia prima vera esperienza profonda nel mondo del movimento è stata proprio il nuoto, che poi è diventato un nuoto agonistico, quasi professionistico negli ultimi anni, quindi il nuoto è diventata la mia vita, nel senso che passavo ore e ore in piscina ed ero completamente identificato nel nuoto, nel senso che se andava male una gara non parlavo per giorni perché mi prendeva male ed era come se fosse lesa una parte del mio corpo e viceversa se invece una gara andava alla grande io esplodevo di gioia, quindi era come se il nuoto fosse il prolungamento di me stesso in questo senso diciamo che sono sempre stato un ragazzo piuttosto introverso il nuoto è uno sport individuale come tutti sappiamo sì, lo sport introverso per eccellenza e sicuramente questa unione di fattori ha fatto sì che io gestissi le mie emozioni non nel migliore dei modi poi nessuno ti insegna a gestire le tue emozioni nel sistema generale di educazione che abbiamo a scuola e quindi mi sono ritrovato spesso a generare stress prima delle gare tanto stress e non saperlo gestire fino a quando un bel giorno avevo ormai 19-20 anni il mio corpo mi ha presentato il conto tutto in una volta io non ero capace di ascoltare segnali che mi mandava il corpo questi segnali erano delle forti tachicardie prima delle gare dei colpi in pancia come se qualcuno mi tirasse dei pugni in pancia quando la gara importante si avvicinava silenzi cioè il non condividere con nessuno queste cose e un giorno il corpo dopo che apro queste cose le ho capite solo tanti anni dopo ma il corpo ha provato a dirmelo in tutti i modi io non l'ho mai ascoltato e a un certo punto si è ribellato si è ribellato come? presentandomi la mia seconda malattia autoimmune questa volta molto più grave della prima che è una colite ulcerosa tale per cui mi è stato subito proposto di prendere dei farmaci prima più leggeri poi più pesanti fino ad arrivare agli immunosoppressori che sono farmaci molto potenti insomma questi farmaci mi hanno tenuto a fare una vita normale per circa un anno quando poi ho avuto una ricaduta e da lì non mi sono più ripreso quindi mi hanno ricoverato più volte cercando una soluzione anche lì con farmaci ancora più forti una volta addirittura l'hanno fatto arrivare dall'America e solo il 10% delle persone non reagisce a questo tipo di farmaco eccetera eccetera fino a quando a un certo punto le pareti del mio colon se si andava avanti così si sarebbero lacerate mettendomi in seria difficoltà così la risposta della medicina occidentale è quella di andare all'archirurgia e quindi ho fatto un percorso di un anno tre operazioni mi hanno asportato completamente il colon e diciamo Alessandro De Maria muore lì la vecchia versione muore lì a quel punto lì perché capisco che non posso più tornare a nuotare per farla breve che era qualcosa con cui esatto ti identificavi in maniera importante esatto e quindi è come se vengo un po' ucciso e da lì inizia insomma lo dico sempre è stato l'anno più difficile della mia vita ma col senno di poi anche quello più importante perché ho iniziato a farmi delle domande che prima non mi facevo ho iniziato a chiedermi come ho fatto ad ammalarmi a 21 anni nonostante comunque facessi una vita da sportivo quindi mi allenavo tutti i giorni mangiavo comunque bene eccetera eccetera e i medici ti dicono mi hanno detto allora questa frase guarda le malattie autoimmuni non sappiamo ancora da dove derivano ma di fatto è il tuo corpo che ti attacca invece che difenderti il tuo sistema immunitario invece che difenderti ti inizia a ledere quindi questa risposta mi ha lasciato un po' di amaro in bocca c'è qualcosa che non mi convince tutto questo e in sostanza poi da qua inizio a formarmi prima con metodi più accademici scienze motorie un percorso di yoga un teacher training di yoga capendo sempre di più che le risposte che cercavo non stavano nel posto dove tutti cercano ma andava fatto qualcosa in più e quindi ho iniziato a viaggiare ho iniziato a viaggiare fino a quando ho trovato delle risposte non ho mai trovato la singola risposta magica ma è sempre stato un insieme di piccoli pezzi di un puzzle che poi si è andato a formare nel tempo e che ancora si sta formando oggi e mi auguro che non si stopperà mai di formarsi perché è la cosa che mi fa alzare dal letto con la voglia di scoprire sempre di più tutte le mattine sicuramente nel primo periodo di risposte ero ancora molto legato al mondo occidentale razionale, tecnico degli esercizi e questo sicuramente mi ha portato a trovare i migliori esercizi al mondo le migliori tecniche al mondo ottenere un grosso miglioramento dal punto di vista fisico, tecnico, personale quindi se prima era una persona molto rigida io non mi toccavo la punta dei piedi e non potevo stare seduto in ginocchio per più di un minuto sono arrivato a fare cose che le persone possono definire incredibili che io non credevo fossero possibili come, che so, una verticale a una mano spaccate, salti mortali, eccetera, eccetera ma in realtà questo è stato solo il primo strato ancora, ero ancora immerso in realtà nella vecchia versione di me stesso non ero ancora capace di ascoltarmi di dare importanza all'energia e tutta una serie di cose che ancora non avevo capito quindi tutte quelle cose che non fanno parte del nostro sistema occidentale ma se vogliamo le ritroviamo nelle culture orientali, milionarie e comunque in altri tipi di culture e tra l'altro questo mi porta a un fatto interessante che spesso se leggo ad esempio pareri di esperti online questo approccio più è quasi stata bastardizzata la parola olistica ma che vede come il nostro legame tra mente, corpo, energia sto leggendo il libro di uno yogi yogi, si chiama Sadhguru non so se lo conosci e lui no, c'è nomi troppo simili tra loro magari simili no esatto lui spiega nel suo libro come l'essere umano ha diversi corpi il corpo fisico il corpo mentale che gli indiani nella tradizione non identificano solo con la mente ma come tutto il corpo è una mente il corpo energetico e poi si va sempre più nell'astratto verso qualcosa di trascendente e loro identificano come il fisico sia in realtà una porta di ingresso verso la mente e verso un corpo più energetico e noi non concepiamo per niente questa idea di il corpo fatto come qualcosa di non solo meccanico assolutamente hai detto una cosa molto interessante e di fatto a me piace dire che il corpo ha diverse intelligenze e noi l'unica alla quale diamo importanza nel sistema occidentale è quella quella razionale viviamo in una società mentale dove importa il quotiente intellettivo ok quindi se a scuola prendi cioè tutto il sistema di educazione scolastica è dedicato a quello non dà importanza all'intelligenza fisica all'intelligenza quindi motoria del corpo all'intelligenza del cuore all'intelligenza diciamo sociale quindi ci sono tante sfumature tante intelligenze diverse che sono poi tutta la stessa intelligenza che è l'energia con la quale affrontiamo sicuramente la nostra vita e quindi ci perdiamo ci perdiamo un pezzo io credo che siamo arrivati un po' al culmine di questa roba qua in occidente adesso si sta invertendo piano piano questa tendenza alla riscoperta di appunto un vero olismo che non è quello che possiamo trovare oggi insomma quantomeno nella vita di tutti i giorni sì quindi ti riporto un attimo indietro ai tuoi viaggi trovi Ido Portal se puoi spiegare alle persone che non lo conoscono un po' chi è e se ci puoi portare attraverso anche quello che è stato l'allenamento cioè cosa hai scoperto in questo approccio nuovo che ti è stato insegnato allora diciamo che prima di Ido Portal ero avevo scoperto solo cose etichettate singoli metodi qualsiasi approccio di allenamento isolava la singola capacità quindi c'era l'esperto di flessibilità l'esperto delle verticali l'esperto della forza quello che fa yoga in generale tutto un sistema di approccio allenamento che si chiude all'interno di una singola via che è esattamente lo specchio di quello che fa la società di iper specializzazione quando io mi specializzo in una cosa perdendomi poi la visione generale del puzzle di quello che è il movimento in questo caso è esattamente la stessa cosa che succede in qualsiasi ambito della vita oggi quindi quando scopro i primi video di Do Portale vedo che sto ragazzo può fare dalle cose più disparate e polari tra di loro mi incuriosisce in un modo incredibile quindi poteva fare dalla verticale una mano da danzare da fare il giocoliere da fare l'acrobato insomma tante cose diverse ma magari non era il migliore in ogni singola cosa quindi in sostanza ho partecipato a un workshop a Barcellona il generalista del movimento se vogliamo esatto esatto proprio come viene chiamato anche da lui è generalismo e non più specializzazione che poi non va confuso con faccio un po' di tutto ma c'è dietro una gestione del movimento molto più complessa se vogliamo della specializzazione perché appunto devi gestire tante cose assieme e ci sono dei tempi e delle gestioni chiaramente precise e quindi niente partecipo a questo workshop a Barcellona chiaramente impazzisco di nuovi segnali di nuovi stimoli diciamo che io quando da questo punto di vista ragiono molto sulle sensazioni io il giorno dopo gli ho scritto che voglio iniziare il percorso per diventare un suo studente e una settimana dopo ho iniziato il percorso che è durato circa un anno e mezzo io ho iniziato che stavo iniziando ad abbozzare alcune cose più avanzate come magari una verticale e iniziavo a lavorare sulla flessibilità ma ripeto in modo più isolato e ho terminato questo anno e mezzo che facevo cose che prima mi sognavo quindi i piegamenti sulle braccia in verticale la spaccata sagittale ma soprattutto iniziavo a mettere a avere una visione più globale della cosa e quindi dentro di me si è accesa la lampadina del non non è più diventare il migliore anche perché io arrivavo da uno sport agonistico dove devi essere il migliore quello è l'unico obiettivo mentre qui diventa più diventa sviluppo un corpo e una mente adattabile quindi più adattabile possibile a tante esperienze diverse piuttosto che essere il migliore in una singola cosa e quindi inizi di conseguenza a spostare il tuo focus sul percorso e non più sulla meta finale ok quindi gli allenamenti sono stati incredibilmente tosti nel senso che mi sono arrivato a fare o due sessioni di forza al giorno quindi vuol dire per gli esperti tecnici del settore vuol dire che fai una sessione di forza per la parte superiore la mattina e una sessione per la parte superiore sempre il pomeriggio più due o tre sessioni di gambe a settimana più le sessioni sulle verticali sulla mobilità quotidiana più l'acrobatica leggera e tante altre cose quindi sono passato da fare magari due sessioni di forza al giorno fino a tre sessioni al giorno che però si alternavano tra diverse tipologie di allenamento sicuramente l'approccio al movimento di do portale è del volume quindi fare tanto 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 fino a quando non impari e non lo fai una mentalità come la mia si sposava perfettamente a questo metodo perché ero sono comunque di base un carro armato quando credo in qualcosa non mi fermo a volte facendomi male poi perché non so magari fermarmi ed è una cosa che sto imparando quindi quindi elementi sicuramente di volume molto 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 tassanti che però di fatto hanno rivoluzionato quanto meno il mio corpo fisico ok la parte energetica è qualcosa che poi è arrivata dopo è arrivata dopo ed è stato frutto di altre esperienze